Ciao a tutti, io sono Ambu ed eccoci qui in questo nuovo episodio di It's Better Together con Lego Eravamo arrivati in questa stanza che non poteva tenere il numero 10 E allora andiamo avanti verso la prossima stanza che sarà più grande Non entriamo insieme negli ascensori perché abbiamo scoperto che... Eh, non è una buona idea E scendiamo Oh, un'altra stanza, questa è stata veramente impegnativa Quanto è grande Wow, ma non si vede il numero di... che cavolo di numero c'è scritto? Dieci Ma schifezza Ha fatto veramente male Ah, much better Wow The next test has a lot of buttons Non so se effettivamente è pieno di bottoni su tutti Sì, sì Qua ci sono un sacco di numeri tra l'altro Nooo Che pari Prova a schiacciare il primo bottone qua Aspetta, guai Lì arriverà fino al 9 e poi non c'è più niente in giro Ah, aspetta, c'è una scaletta per salire Oh, perché? Madonna Sono due scalette per salire, però tu sei andato a destra No, ma arrivi allo stesso punto Ah, si vede qualcosa dall'alto Oh Spacca sto vetto, spacca sto vetto Wow, quindi mi sa che tu devi stare... Tu vuoi rimanere in alto e io premo i bottoni O io stai in alto e tu premio Ok, ok Così poi devi ragionarci tu su come devono risolvere il sistema Ho capito, forse... Hai in mente che lì ci sono i bottoni First number, second number, third number Magari... No, cazzo Ripremilo, non l'ho visto Tu cosa stai vedendo? Madonna, mi tocca guardarmi questo video poi su YouTube Perché... È un 3, penso Vai a cliccare il 3 Ah Wow Ora clicca il secondo Madonna, che figata questo Due Che mente malata può pensare a delle cose del genere Eh, molto malata È così peggio di me 8 Allora, se è giusto Era troppo semplice, dai, questa cosa, parliamo Cioè, rispetto a quello di prima delle meduzze Stiamo parlando di me e te Due menti geniali che stanno collaborando E diaboliche Insomma, tutto Allora, signor Ambu Prego Avanti pure, vada Grazie Andiamo avanti Undicesimo test Stiamo facendo sempre più veloci Una ventina, mi pare Uuuuh, la bella Però mi... Avevo letto su vari commenti Che alcuni erano bugati verso la fine Tipo, creavano dei problemi Quindi... Io sti numeri comunque non li vedo Test job, test 11, ready Abbiamo bisogno di più intelligenti Più del cervello Oh, brain pie Perfect Cos'è sta roba? C'è solo un vetro Non ci sono delle leve Ah, fa solo a destra No, no, qua è una cosa come prima Col carrello che si muove Qualcosa... Andando giù Vediamo cosa succede Vabbè Ah... Perché tutte queste leve? Ne basta una Ne fai una Che fate? Premi una leva Ok, aspetta Parto dalla prima così Allora, destro Non va bene Premi la seconda Seconda Eh, già fatto Aspetta, la tiro giù Aspetta La ritiro su Premi la terza Terza, fatto Ok Tirala indietro Ok, quarta Quarta Su Ok Aspetta, la ritiro giù Allora su Tira la giù Di nuovo la terza La terza, su Ok Ora prova La quinta La quarta, quinta Su Tirala È tirata su No, tira la giù ora Ah, giù Sesta Su La sesta non mi ha fatto niente Beh, la tiro giù Tiro la settima Ok, tira la giù la settima La quinta No, la quinta ancora Un, due, tre, quattro, cinque Cinque Fatto Ora la Seconda La prima Fatto Tirala Tirata Tirala indietro Fatto Ora tira indietro Una delle vecchie Che avevi tirato avanti Questa Ok Tira indietro anche le altre Che avevi tirato avanti Ok, adesso sono le nuove tutte giù E premi la terza Mi pare che fosse Terza No, tirala indietro la quarta Uno, due, tre, quattro No, la seconda Seconda Non si sta aprendo nessuna porta Perché Ah, c'è ancora un'ottava Che non l'abbiamo toccato Prova a premere l'ottava Vediamo cosa succede La due è ancora sua Sì Ottava Ah, no Aspetta Niente Mi sa che ti ho fatto cannare tutto Li vedo una simpatica Verso Plate Ehm Come si farà Fare questa cosa Cosa che succede quando Soggio Per curiosità Ah, sposta i cubi gialli Sì Sposta il cubo giallo Te l'ho fatto spostare fino lì Però lui in teoria Deve entrare dentro là Ma come ci entra dentro là Scusami, non si riesce a spostare Qua sotto Poi lo sposta in quest'angolo qua Sì, dobbiamo fare il coso Cioè, deve cadere dentro lì Ok Quindi adesso praticamente Da lì lo si deve spostare Sì, bisogna fare il viaggio inverso L'ottava lì ma non faceva niente Che cazzo Eh, magari perché sarà una di quelle lì Dove è messo E magari si blocca Probabile, va bene Rifacciamo il ragionamento inverso Allora Porco questa mappa Macello Tira giù la leva Sì Ok, sento giù Ora dovevi tirare la seconda Mi pare Fatto Ok, la terza Fatto Ok, la prima Fatto Ok, la Quarta Fatto Tira indietro la quarta Fatto La quinta Eh Beh Ok, quinta No, tira indietro la quinta Sesta Sesta Non ci sono sei leve Ah, sesta Ho capito Testa Testa Ok, sesta Non fa niente La sento Lo vado di settimo So che non devo cliccare Ma la sento Tac Ok, non è successo È successo qualcosa Ok Allora benissimo Ma non capisco Prova a premere la seconda Seconda Che cazzo Fammi vedere Fammi vedere che mi siamo messi là sotto Tira indietro Tira indietro le leve che hai tirato su Tranne l'ultima Ok, va bene così Ora, qual è l'unica che hai su? È la settima Ok Tira in avanti la Quella che cazzo sarà? Prima Ok, tiro su La Prima Fatto Prima C'è l'unica Perché Dovemo tirare indietro queste leve qua Ma tu non avevi quell'accendino Quelle porte sono Mi scambi vanno a fuoco Cazzo è sta cosa È impossibile È impossibile Cercavi di romperlo? No, speravo che in qualche modo Cioè, non è possibile romperlo in quel modo Però speravo di Poterlo rompere in qualche Un qualche strano trucco Allora non si può romper Però è strano che non vada giù Cioè, dovrebbe entrare lì Basta Ti vado io Che hammer lego Ma non volevo cadere Ma il punto è che non hai nemmeno risolto niente Perché deve esserci la leva 2 attiva Può andare da un attimo È giusto che il mio sacrificio non sia vano Merda Mi faccio di qui Stupido vetro Si rompe subito Però hai aperto le porte Lego Hai aperto le porte Lo sai? Vabbè Aiuto Aiuto No No, ma secondo me Quel vetro era incrinato Fin dall'inizio Io ci sono camminato sopra E si è rotto Probabilmente era da far così Uno doveva buttarsi giù Occidentalmente Sicuramente Allora Ok Voco Ah Ok questa Allora apri qua E lì mi sa che se lo rompi Ci porti via La partita Ah Spacchiamo questo Dai No questa cosa comunque Io poi devo andare a cercare Come si faceva Perché non capisco proprio In che modo si potesse fare Non mi è chiaro Voilà Ecco Eh Vai lego Ok Come si fa pentola sta Dai pianta Porco Là Eeeh Abbiamo salvato il minimo Sforzo Attenzione Questa è stata un'impresa eroica Di Ambu Un getto di Vorrei capire cosa c'era Qua sotto Come Non è caduto Ah Bu Bu Io continuo a non capire Questo coso Come doveva funzionare Vabbè Vabbè usciamo Usciamo Lasciamo stare Ma che cazzo Sono caduto ancora Te hai i tuoi Pavimenti rotti Ma Non mi fa passare Come si fa uscire dal recinto Ma devi uscire da là Non puoi saltarlo Il recinto Questo lego che spacca tutto Non lo ferma più nessuno Lo rimonto Lo rimonto Guarda Come si fa Hai visto Si è rotto qualcosa Non hai visto niente No comunque Questa cosa Era improbabile Non è fattibile Proprio Quindi Ambu c'è una palla Salta Schivala Che padre Se buttasse giù E morisse È un tentativo Di farti uccidere Così Simpatico Affortunatamente Non ci sono cascato Perché sono il più forte Wow Ormai il lego è un cazzo di vandolo In questo Questo cosa Minecraft è stato creato per Piantare e distruggere i cubetti